Ben trovati con una nuova edizione della TG L'Aquila di TV6. In apertura il maltempo che ha colpito nelle ultime ore la nostra regione, in particolare la Marzica, il bilancio di due morti e circa 100 feriti. Numerosi convoi dei vigili del fuoco che dall'Aquila sono partiti per aiutare le popolazioni delle località più colpite. Tutti particolari nel servizio preparato per noi da Daniela Rosone. Dopo il giorno nero di ieri, oggi si fa la conta dei danni causati dal maltempo nell'Aquilano. Due le vittime in Abruzzo, a Civitella Roveto e a Tagliacozzo. Non ce l'ha fatta Donia Sabatini, di 51 anni, rimasta sepolta tra fango e mattoni mentre correva. La seconda vittima, un uomo, ha perso la vita invece a causa di un fulmine, mentre toglieva l'acqua dalla cantina della sua abitazione. Allarme rosso, chiaramente per rischio idrogeologico, e oltre 100 persone fatte evacuare ieri dalle loro case. Due, i centri di emergenza, nel Fucino e nella Valle Roveto. Migliaia di interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Molti sono partiti come rinforzi anche dall'Aquila. Una situazione drammatica che ha toccato solo in parte la città dell'Aquila. Allagamenti a Sassa, Scoppito, Pettino, Viare della Croce Rossa e Viare Corrado IV, ma nulla di grave. Molti allagamenti anche nelle strade interne. Alcune automobili all'Aquila sono rimaste bloccate sotto il sottopassaggio di Pile e anche all'interno della Galleria di Colle Maggio. Tantissimi gli interventi fatti anche ad Avezzano, San Benedetto dei Marzi e Carzoli. Sempre per quanto riguarda il maltempo, stamane scuole chiuse nella Marsica. A Civitella Dantino, Luco, Carzoli, Pereto, Morino, Canistro, Civitella, Roveto. A San Benedetto niente asilo. Lezioni invece regolari ad Avezzano. Ancora, anche perché restano difficili le condizioni del comune in particolare di Canistro, provincia dell'Aquila, dove un centinaio di persone hanno passato la notte presso i punti di raccolta. Nello stesso comune il fiume Liri ha rotto gli argini in più punti. Il paese è rimasto senza illuminazione. I negozi sono allagati, gli anziani sono stati ospitati da amici e parenti. L'acqua non è più potabile. A rendere difficili, tra l'altro, gli interventi dei vigili del fuoco, la presenza di diverse frane, una delle quali lungo il tratto stradale che conduce ad una clinica privata. Apriamo adesso invece la pagina dedicata all'Università. In particolare oggi è stata la giornata di presentazione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico che ci sarà il 16 novembre prossimo alla presenza annunciata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poi nel pomeriggio dello stesso giorno presenzierà anche all'inaugurazione ufficiale del Tribunale appena riconsegnato alla città. Sarà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Aquila il prossimo 16 novembre. La cerimonia si terrà nel polo didattico di Coppito alle ore 11. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica taglierà il nastro del Palazzo di Giustizia del Capoluogo. Una visita che rincuora cittadini e istituzioni e dimostra la vicinanza dello Stato italiano alla città ferita. Il cerimoniale sarà deciso dalla Prefettura nei prossimi giorni. Non è solamente, credo, una manifestazione di vicinanza per dire che non siamo soli. Credo il Capo dello Stato inaugura anche altri anni accademici. È la testimonianza della nostra esistenza come Università che sta svolgendo il suo ruolo all'interno di un territorio che è stato colpito e che però sta lavorando per costruirsi una nuova prospettiva e un nuovo futuro. Quindi io interpreto l'aver accettato il fatto che il Capo dello Stato abbia accettato il nostro invito come proprio una manifestazione di appoggio a quanto abbiamo fatto e a quanto stiamo facendo per ripristinare condizioni non solo di normalità ma di crescita, di futuro per questo territorio. Un valore simbolico importante assume la visita di Mattarella come sottolineato dal sindaco Massimo Cialente che già nell'agosto scorso aveva chiesto al Presidente di venire in visita in città in occasione di un concerto al Quirinale. Si ha una presenza carica anche di significato. Questo è un po' il simbolo, il Palazzo di Giustizia è il simbolo di tanti altri uffici della nostra città che sono voluti rimanere in condizioni di difficoltà come bambini nei MUSP ma perché siamo voluti rimanere vivi. La città non ha perso gente, abbiamo perso 750 abitanti. Se in quei giorni non avessimo fatto queste scelte drammatiche e gli aquilani non si fossero sottoposti a danni di sacrificio oggi saremmo forse una cittadina di 15-20 mila persone. Andiamo adesso in Comune dell'Aquila. La dirigente Angela Spera ha assunto le funzioni di segretario generale facente funzione dopo la sospensione di Pirozzolo coinvolto nell'inchiesta ex-Ompi. Il sindaco Massimo Cialente ha tuttavia richiesto alla prefettura l'arrivo di un reggente. Ancora per noi Antonella Calcagni. Sarà la dirigente Angela Spera ad assumere le funzioni di segretario generale del Comune dell'Aquila facente funzione in seguito alla sospensione di Carlo Pirozzolo dalle sue mansioni per l'inchiesta sull'ex-Ompi. Il primo cittadino ha già chiesto al prefetto la possibilità di avere un reggente. In ogni caso ha specificato il sindaco non c'è alcuna paralisi dell'ente e le attività vanno avanti regolarmente. Adesso il segretario generale c'è perché abbiamo nominato immediatamente. Ieri ho telefonato, gli ho chiesto, l'ho avvertita ed è il segretario in questo momento facendo funzione e l'autoressa Spera che di solito sostituisce il dottor Pirozzo nel periodo di ferie e di disponibilità. Dopodiché ieri ho chiesto al vice sindaco di seguirmi questa vicenda. Il vice sindaco ha parlato sia con il dottor Guetta, il vice prefetto, che con il prefetto. Poiché come sapete in queste sospensioni cautelari non c'è una durata, ma la durata massima è di un anno e noi non sappiamo, anche perché ho letto che adesso ci sarà un appello. In ogni caso noi abbiamo chiesto di avviare il procedimento per trovare una reggenza. Io sto leggendo il comune bloccato, paralizzato, eccetera, eccetera. Non è assolutamente vero. Il lavoro va avanti normale, a luglio il comune non è stato paralizzato, nonostante, no, ad agosto, l'avvocato Pirozzo si è preso le giuste, meritatissime ferie. Parliamo adesso del Teatro Comunale dell'Aquila. Giornata importante quella di oggi perché sono stati riconsegnati i lavori di restauro e di adeguamento del secondo lotto. Vediamo il servizio. Alvia i lavori di restauro del Teatro Comunale dell'Aquila dopo una lunga odissea giudiziaria. Ad effettuare le opere che avranno una durata di 750 giorni sarà la seconda classificata nell'appalto, la società cooperativa Conscop, per un importo a base d'alta di oltre 7 milioni di euro. L'edificio fu realizzato nel 1854 sul progetto di Luigi Catalani e inaugurato nel 1872, ingenti i danni provocati dal sisma. Innanzitutto dire che è stata una maratona perché la prima classificata comunque ha avuto delle vicende che non hanno consentito l'aggiudicazione. Va la seconda che è il Conscop e per essi organizzerà una cooperativa associata, l'internazionale, che tra l'altro ha fatto il Teatro Petruzzelli di Bari, quindi è molto squalificata nel settore. 7 milioni saremo sui due anni, due anni e mezzo circa. Avremo un teatro completamente diverso. Prima bisognava sempre prendere l'autorizzazione sulle normative di sicurezza e adesso invece ci saranno, come ci sarà un locale sotto la platea per le prove d'orchestra. Il nuovo teatro avrà un locale in più, una sala polifunzionale. Inoltre, dinanzi al palcoscenico, è stato ricavato lo spazio per l'orchestra. Si tratta di un restauro conservativo che tenderà a restituire alla città, in tutto il suo splendore, l'antico edificio culturale. Saranno potenziate anche le misure di sicurezza. Si tenderà a riproporre l'immagine del teatro come era prima degli ultimi lavori, antesismo, prima, ma prima degli ultimi lavori. Nel senso che verrà riproposta la facces del teatro dei primi del Novecento. Per quanto riguarda l'aspetto visivo, il progetto prevede di fatto nel luogo della cavea un sistema idraulico per la quale essa può essere di nuovo messa a livello sotto dell'orchestra oppure portata a livello, diciamo, del palcoscenico. Apriamo adesso la pagina sportiva perché l'Aquila Calcio si prepara alla difficilissima trasferta di sabato a Pontedera contro il Tutto Cuoio dopo quattro sconfitte consecutive. C'è bisogno di tornare a far punti per smuovere la classifica. Il punto della situazione lo facciamo nel prossimo servizio. Antivigile di campionato per l'Aquila Calcio che sabato a Pontedera con il Tutto Cuoio sarà chiamata a reagire dopo quattro sconfitte consecutive. La sfida in Toscana è fondamentale per tornare a smuovere la classifica e uscire da una striscia di risultati negativi che ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto nel tifo aquilano, scoraggiato e polemico nei confronti della società. Il tecnico Carlo Perrone sta pensando a qualche cambiamento nell'undici iniziale. Tra le novità, previsto il ritorno tra i titolari di Sanni in difesa, il luogo di Anderson squalificato, mentre a centrocampo si rivedrà sicuramente De Francesco dopo la squalifica scontata contro il Savona. I dubbi maggiori comunque l'allenatore nomano li ha nel reparto avanzato dove sicuro del posto e solo Claudio De Sousa. Sugli esterni ballottaggio a tre tra Ceccarelli, Triarico e San Domenico con i primi due favoriti. Restando sempre in tema l'Aquila Calcio, quest'oggi erano in programma a Roma la Procura federale le audizioni del filone di inchiesta Dirti Soccer sul calcio scommesse, convocati anche l'ex direttore generale dell'Aquila Calcio Ugo Mastropietro e l'ex tecnico Nunzio Zavettieri. Entrambi però non hanno potuto partecipare all'audizione per improrogabili motivi di lavoro. Per loro dunque ci sarà nelle prossime settimane una nuova convocazione. Parliamo adesso di alcune iniziative. Io non rischio. Il 17 e il 18 ottobre in Piazza Duomo le buone pratiche per ridurre i rischi in caso di terremoto. Una campagna nazionale promossa dalla protezione civile. Per il quinto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme nella campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Nel weekend del 17 e 18 ottobre più di 4.000 volontari e volontari di protezione civile allestiranno punti informativi io non rischio in circa 430 piazze italiane. Sabato 17 e domenica 18 ottobre in contemporanea con altre piazze in tutta Italia i volontari dell'Associazione di protezione civile Gran Sasso Soccorso L'Aquila partecipano alla campagna con un punto informativo io non rischio allestito all'Aquila in Piazza Duomo per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio in caso di terremoto. In caso di pioggia la campagna si svolgerà presso il centro commerciale Globo a Campo di Pile. Io non rischio è una campagna che è nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico e è promossa dal Dipartimento della protezione civile con ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e RLUIS, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L'inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento invece di Ispre, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e di altre organizzazioni. L'edizione 2015 coinvolge volontari e volontari appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni locali. Su www.ionorischio.it è possibile consultare anche materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima durante e dopo un terremoto o un maremoto. Ed ancora si terrà negli stessi giorni, 17 e 18 ottobre, la secondo raduno provinciale dei bersaglieri. Una gioia e un onore per tutti i cittadini aquilani, ha commentato il sindaco Massimo Cialente. Sarà per noi tutti, ha detto, una nuova occasione per stringerci attorno a uomini che hanno fatto grande il nostro paese. Tutta la cittadinanza, conclude Cialente, è invitata a partecipare. Sabato 17 l'appuntamento è alle ore 17 in piazza Battaglioni Alpini, con la fanfara e la sfilata lungo il corso. Alle 18 la fanfara si esibirà in piazza Duomo. Domenica 18 invece alle ore 9 in piazza Battaglioni Alpini, partenza della pattuglia ciclistica storica dei bersaglieri, scortata da auto e moto d'epoca. Alle 10 sfilata lungo il corso e arrivo alla villa comunale per onorare i caduti. Bene, era la nostra ultima notizia. Il TG L'Aquila finisce qui. Vi ringraziamo per averci scelto. Buon proseguimento con i programmi di DB6.